mechie fresh 215 diffusore attivo da 1300 watt di casa mechie disponibile nel nostro negozio online il fresh 215 è un sistema di diffusione a due vie in bassa reflex abbinato ad un'amplificazione a doppio canale in classe d da 1300 watt complessivi la pressione sonora massima disponibile è di 125 decibel con un rage di risposta in frequenza da 52 hertz a 20 kilohertz il cabinet in polipropilene risulta robusto a fronte di un peso complessivo di 18,5 kg la disposizione dei trasduttori è di tipo standard con il twitter in titanio da un pollice nella parte alta dotato di caricamento a tromba e il woofer nella parte bassa mentre il sistema a doppio foro per il bassa reflex è disposto nella parte centrale del diffusore il pannello posteriore implementa due singoli ingressi di tipo combo jack xlr monito di regolazione di ingresso mentre è presente una sola uscita xlr per il collegamento in serie di altri diffusori immancabile il foro per il posizionamento sustativo e la piedinatura d'appoggio a terra oltre alla smussatura laterale per il posizionamento orizzontale in modalità monitor indispensabili le comode maniglie per il trasporto passiamo ora ad un breve test d'ascolto Grazie a tutti 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 Come evidenziato dal test, il thrush 215 risultano diffusori dalla spiccata propensione ad accentuare le frequenze basse, mantenendo nel complesso un buon equilibrio sonoro che ben si abbina tutti i generi musicali ma strizzano leggermente l'occhio alla musica dance. Per il prezzo e per ulteriori dati tecnici visitate il nostro negozio online.